Importanti novità quest'anno, intanto grazie Italia 2 per aver ospitato anche quest'anno, così come negli ultimi sette anni questa iniziativa che ha preso piede a livello nazionale oramai. Per fortuna, dico io, mi è piaciuto molto il titolo che avete fatto l'altro giorno, Diventa Capitale della Musica. Era un po' il nostro obiettivo, era quello di prendere un piccolo centro del basso salernitano e portarlo al centro della ribalta nazionale per la scoperta dei talenti, per dare l'opportunità ai giovani di farsi conoscere. Quest'anno, come dicevi, abbiamo voluto cambiare formula, non più il concorso Canoro in quanto tale, quindi con l'esibizione e poi la premiazione, ma abbiamo fatto un lavoro a monte, come direzione artistica, scegliendo sette cantautori e un coro polifonico per rappresentare il mondo della musica. Quindi vogliamo raccontare che cosa c'è dietro la musica, che cosa c'è dietro un testo, perché si scrivono le canzoni e soprattutto qual è l'emozione che una canzone deve trasmettere. E quindi faremo questa accoppiata, una accoppiata tra giornalisti del territorio, ma non solo, perché verranno colleghi da Roma, verranno colleghi da Milano, ma anche colleghi del territorio del Vallo di Diano, che in simbiosi con gli artisti che si esibiranno, proveranno a raccontare la musica attraverso le parole e attraverso naturalmente le note musicali. Come ogni anno l'iniziativa prenderà corpo alle 21 di domenica 2 agosto in piazza 24 maggio a Sanza, nel ricordo di un amico che non c'è più da otto anni oramai. Siamo felici, stressati, perché il lavoro è intenso, soprattutto negli ultimi giorni, ma quest'anno credo che davvero abbiamo messo a punto una manifestazione di primissimo ordine a livello nazionale, Antonio. E ancora una volta con gli amici Roo Cavaliere. Gli amici Roo Cavaliere sono gli amici di Vito Curcio, un'associazione che, come dicevo, è nata appunto per ricordare questo giovane appassionato di musica che è venuto a mancare. Tra l'altro quest'anno, e non poteva essere diversamente, la Kermesse Canora si aprirà con un ricordo al cantautore Goffredo Ferrarese, nostro concittadino, venuto a mancare qualche mese fa a seguito di un incidente drammatico, un incidente stradale, un ragazzo che aveva davvero talento da vendere e che troppo velocemente, insomma, gli è stata stroncata la vita e la carriera. Di conseguenza inizieremo ricordando Goffredo e poi concluderemo, come ogni anno, con un concerto di musica rock. Quest'anno siamo andati a selezionare una band di assoluto prestigio a livello internazionale. Provate ad immaginare che aprono i tour degli U2 in Italia e quindi è la tribute band degli U2, che hanno base a Roma e a Milano e che ci delizieranno a partire dalle 23 con un grande concerto di musica rock.